La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha detto no per la terza volta al ricorso del Getty Museum di Malibu contro l'ordinanza del Tribunale di Pesaro che ne ha disposto la confisca della statua dell'atleta vittorioso attribuita allo scultore greco Lisippo, pertanto da tutti conosciuta come Lisippo, ritrovata 52 anni fa all'arco della costa affanese dal motopesca Ferruccio Ferri, ovunque essa si trovi, come recita la sentenza in quanto corpo di reato per esplotazione illecita dall'Italia. Non c'è spazio quindi per altre manovre la parola fine, almeno per l'iter giudiziario, è stata scritta anche se era ampiamente nelle aspettative del legale fanese Tristano Tonnini, anche se però il sigillo finale su questa lunga vicenda lo potremo mettere allorquando vedremo la statua bronzea varcare le porte di Fano. Un esito molto positivo che ci auguravamo, che logicamente speravamo, che da un punto di vista del diritto a mio avviso, ho sempre detto, l'ho sempre dichiarato, non poteva essere diversamente perché sarebbe stato in pericolo tutto il patrimonio. È stata scritta la parola fine definitiva o c'è ancora qualche cosa che manca ancora all'appello delle possibilità e delle variabili? Quello che può essere attuato ora è l'arrogatoria che verrà disposta dalla Procura della Repubblica di Presa, lo credo, la dottoressa Cechi in persona. Da un punto di vista diverso, c'erano stati degli accordi del Ministero Italiano dei Bini e dei Culturali con i Ghetti che già avevano fatto ritornare più di 40 opere d'arte. In quell'occasione il Ghetti aveva dichiarato che avrebbe restituito anche il Lisippo dietro una sentenza di un tribunale, un provvedimento di un tribunale italiano definitivo. Adesso ce l'abbiamo, quindi noi prima dell'arrogatoria ci aspettiamo che il Ghetti mantenga la propria parola e restituisca immediatamente il Lisippo a Fano. Il padre di Tonnini intraprese come legale delle cento città assieme al professor Berardi questo lungo e tortuoso cammino. Professor Berardi colto oggi da un vigore, da un'esaltazione incontenibile che solo la gioia di una notizia di portata internazionale come questa può dare. Questa vicenda ha messo in moto tali e tante energie da riportare decine di pezzi al posto dove dovevano essere e comunque anche da grandi speranze per il futuro perché volente o non lente lo sanno tutti, lo dicono a bassa voce e l'Adriatico è uno scrigno senza fine. Ora il Pellino è nelle mani del Ghetti Museum il quale, se onora la parola data, dovrebbe restituire spontaneamente la statua in presenza, come dissero, di una sentenza definitiva di un tribunale ma questa è un'ipotesi abbastanza improbabile visto l'atteggiamento tenuto sino ad oggi dai legali del Museo Californiano, più veritiera la via dell'arrogatorio internazionale che sicuramente la procura intraprenderà per rientrare in possesso definitivamente della statua dell'Isippo.